Ciao, 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 ciao Serena, saluto la signora, ciao, non ci baciamo ancora ma quasi, fai bene a non aver paura perché la mia parola intraducibile è Ubuntu, che ti spiegherò dopo, è una, beh certo, è per questo, si guarda, in realtà me la spiegheri bene, sempre in Ubuntu, Ubuntu in realtà è una filosofia di vita, è qualcosa di più, senti poi che bel suono che ha, è una filosofia di vita che io però, alla quale arriverò facendoti, partendo da questa foto, facendoti vedere questa foto, che è una foto abbastanza triste ma la parola invece non lo è, e fra poco ti parlerò di Ubuntu, quindi ci vediamo tra poco con Ubuntu, con Serena e con gli altri parolieri, Saverio Raimondo, Lodo Guenzi, Federico Rampini, Stefano Accorsi, Jacopo Veneziani, Corrado Auge, sono più fiato, e riduce dalla manifestazione di oggi pomeriggio, Susanna Camusso, dopo la pubblicità, non muovetevi, per carità, è una fetta, Ubuntu Capisci? Capisci, 1979 esce questa, The Wall, e questa è Another Breaking The Wall, una delle più belle canzoni della storia della musica, secondo me, Pink Fly, esatto, Pink Fly, vedevo Serena che faceva così, è una canzone che parla dell'abbattimento del muro, del conformismo, della coercizione, dieci anni dopo, nel 1989, succede quello che abbiamo visto nel filmato, cioè, crolla finalmente il muro di Berlino, crolla il muro di Berlino che, oltre che essere una cosa fisicamente molto importante, anche psicologicamente, nel senso che mai più barriere, è la cosa che ci unisce tutti, siamo tutti connessi, collegati, collegati, finalmente ci si scambiano le culture, e invece succede che sulle macerie del muro di Berlino, ad oggi, nel mondo ci sono 70 muri, luoghi di morte, di sangue, anche da prima, ma insomma, a tutt'oggi ci esistono 70 muri terribili sul nostro pianeta, tra l'altro ne sono pronti altri 7 da costruire, hanno già avuto l'autorizzazione per essere eretti, e in tutto la lunghezza di questi muri è di 40.000 chilometri. Cioè, se fosse un unico muro, sarebbe il giro della Terra. Sarebbe la circonferenza, tu sappi che è questo, è esattamente la circonferenza della Terra, e questa immagine qui, oltretutto inquietante, cioè noi siamo chiusi in un muro. Cosa succede di recente, dopo la terribile crisi afghana, che 12 paesi d'Europa chiedono alla UE la sovvenzione economica per erigere dei muri sui loro confini, perché? Temendo ovviamente gli immigrati, temendo l'arrivo degli afghani. La commissaria degli affari interni, Ilva Johansson, in maniera un po' farisaica, dice No, guardate, io i soldi non ve li do, la UE non ve li dà, però se voi ce li avete, costruiteli pure i vostri muri. Che cozza un po' con il concetto di Europa unita, francamente, che ci siano degli... Oltretutto sappiamo benissimo che i muri non hanno mai fermato l'immigrazione, non hanno mai fermato questi scambi, anche tutta questa morte, è recentissima quella specie di zattera con 140 migranti e 15 cadaveri. Il muro fra Messico e Stati Uniti è un muro sul quale hanno messo quantità di soldi ed è quadruplicata, le immigrazioni, i clandestini sono quadruplicati. È chiaro che qui c'è un'incapacità politica, cioè noi aspettiamo una soluzione politica, una soluzione dalla politica, però mi farebbe piacere parlare con voi dell'aspetto psicologico, del perché noi abbiamo un istinto a chiuderci. Magari non noi tre, non sto dicendo, ma noi esseri umani abbiamo questo istinto a chiudere, cioè a erigere un muro. Perché siamo conservatori. Perché siamo conservatori? Io dico questo, erigere un muro significa sicuramente che non verrai invaso, non verrai invaso da persone, non verrai invaso da pensieri, da cultura altrui, ma non la potrai neanche dare, non potrai neanche andare da altre parti, né fisicamente, né culturalmente, né col tuo bagaglio culturale. È veramente l'impedimento di uno scambio culturale, la contaminazione culturale quanto di più potente e importante esista, è il vero progresso, è dato da quello. Ha nutrito musica, letteratura, arte, senza la contaminazione non ci sarebbero stati più opere. Ma non ci saremmo neanche più noi, per cui io ho una proposta che ovviamente è un'utopia, e quindi è facile. Per esempio, è un po' curioso che adesso voglio sapere come arrivi a Ubuntu. Come ci arrivi a Ubuntu? Su quale muro? Cavalcando quanti muri? Esatto, i muri, questi 40 mila chilometri, anziché costruirli in verticale, costruiamoli in orizzontale e facciamo dei ponti, che non è una proposta mia, naturalmente è una proposta di molto tempo fa. Però è quello di cui abbiamo bisogno, di abbassare questa verticalità e renderla orizzontale. Perché arrivo ad Ubuntu? Ubuntu è una parola del Sudafrica, della comunità Xosa, che ha dato in Italia Nelson Mandela. Allora, che cosa dice? Lui la descrive con questo raccontino. Lui dice, dalle mie parti, nella mia terra, se un uomo arriva in un villaggio, non ha bisogno di chiedere da mangiare, perché è la gente del villaggio a nutrirlo spontaneamente, che è una cosa meravigliosa. Quindi dice, questo non è perché qualcuno si debba privare, il concetto non è privarsi di qualcosa, ma domandarsi che cosa possa rendere migliore la vita dell'intera comunità. Per cui Ubuntu significa questo, è in senso estremamente lato, il significato è accoglienza, umanità, che mi piace sintetizzare con la frase io sono perché noi siamo.